Oggi è il 7 settembre e compio ben 69 anni, però come vedete godo di ottima salute. Mentre ringrazio tutti gli amici che qui su Facebook e altrove mi invieranno i loro auguri, conforto i miei nemici che godo di una ottima salute, che ho un sacco di idee in testa, ho il desiderio di realizzare queste idee e chi mi conosce sa perfettamente che quando mi metto un'idea in testa poi alla fine riesco a realizzarla, insomma che la vita va avanti e come dice Vasco Rossi, è già, io sono sempre qua, sembrava la fine del mondo, ma non c'è niente che non va, è già, cari miei nemici, io sono sempre qua.